Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 15 gennaio. Ho fatto un po' di scalpore, penso al fatto quotidiano, ma è il tono del giornale di oggi il fatto che Silvio Berlusconi ieri sia stato intervistato da Barbara D'Urso a Canale 5. Ha fatto il 19%, mi sembra il 18%, 2 milioni di italiani l'hanno visto e quindi l'hanno potuto giudicare, se gli è piaciuto o meno. Ma lo scandalo oggi forse è in quello che scrive, indipendentemente da quello che dice Berlusconi, tra poco lo vedremo, il fatto dice che il Cavaliere fa propaganda e viola la par condicio. In realtà il Cavaliere ha attaccato a muso duro, questi sono i nuovi argomenti del Cavaliere, contro i 5 Stelle che sono definiti una setta, la loro incapacità di gestire la cosa pubblica, mentre in un'intervista che ha fatto sempre da sola, Virginia Raggi da Giletti sulla sette, di Giletti, lei si è data un sette e mezzo e ha detto che è bravissima e che ha fatto il meglio che poteva fare e anche quelle propaganda ovviamente, i politici fanno propaganda di se stessi, poi ha parlato Berlusconi del rischio e sicurezza, della flat tax e dei cavalli di battaglia di questa campagna elettorale. Ma insomma, quando c'è una campagna elettorale, per fortuna lunga o breve, quella lo giudicherete voi, però è per fortuna perché in un paese democratico di campagna elettorale ci devono far riflettere sul fatto che alla fine si vada a votare e che qualcuno si possa convincere per votare l'uno o l'altro, in questo momento lo stiamo facendo. Il fatto che noi si sia ossessionati dal fatto che i politici facciano propaganda è una di quelle fissazioni come pensare, oh, sai, agli uomini piacciono le donne o alle donne piacciono gli uomini o, come diceva il libro di Schreck che ho recensito nei giorni scorsi, l'uomo è fatto di un complesso di invidia, è chiaro che fanno propaganda i politici, che cosa devono fare in televisione? La torta? Fanno propaganda, non è che fanno altro. Renzi fa propaganda, Cavaliere fa propaganda, Laraggi fa propaganda e ognuno di loro c'è una caratteristica straordinaria, non so se l'avete notata. Quando stanno per andare al governo spiegano quello che deve succedere, quando sono stati un po' al governo di una città, di una nazione, di un paese, di un condominio rivendicano tutte le cose buone che hanno fatto e anche questo è molto umano perché questo fa sì che uno pensi sempre di aver fatto benissimo e al massimo delle proprie possibilità. Ma fatta questa pippona, il fatto che ridicolizza il Cavaliere che sta solo dalla D'Urso perché non gli piace tanto la D'Urso, evidentemente ha un aspetto estetico che non piace al fatto, è razzismo intellettuale di una certa parte politica. Altrettanto sbagliato, anzi ugualmente sbagliato, è indignarsi perché Orietta Berti in una straordinaria trasmissione radiofonica, il Rai, che cosa dice un giorno da pecora? Dice che questa volta voto Grillo, l'altra volta non sono riuscito perché sono partito e questa volta voto Grillo. Io non riesco a capire quale scandalo ci sia se una cantante dice a una trasmissione radiofonica che vota Grillo. Me lo dovete spiegare quale cacchio è il problema? Qual è il problema? Parcondicio, Agicom, non poteva dirlo. Ma ragazzi ma siamo impazziti, siamo in questa specie di bolla gigantesca di ipocrisia per cui non si può dire di votare Grillo, non si può dire di votare Cavaliere, non si può dire di votare. Certo, lo capisco, dire di votare Cavaliere oggi fa schifo a tutti quanti, come l'ha fatto nel 94, come l'ha fatto nel 2000, come l'ha fatto nel 98, ma insomma scandalizzarsi perché una cantante dica che vota Grillo dà il senso della mala fede che tutti quanti noi abbiamo nei confronti delle elezioni. Le elezioni sono questo, ne più nemmeno di questo. Ah ma in Rai, la Parcondicio, ma andate a farvi fottere tutti quanti. Questa settimana io avrò Berlusconi da solo martedì, mercoledì a Matrix da solo ci avrò Renzi e la settimana prossima, l'ho già invitato, avrò da solo, mi auguro, l'ho avuto anche la settimana scorsa del FICO del Movimento 5 Stelle, ma vorrei avere Di Maio da soli. Voglio parlarci io, voglio fargli le domande io a questi qua da solo, poi dopo se loro faranno il numerologo, diranno le cose che non vi piacciono, eccetera, e voi avete un'arma straordinaria, oltre a quella del telecomando, mi auguro che non la utilizzerete, non votarli, quindi tutta questa retorica dei giornali, erano da soli, Orietta Berti mi fa ridere, ma poi mi chiedo, se qualcuno, oggi lo scrive Campi sul Messaggero e sul Mattino, se qualcuno veramente si dovesse scandalizzare del sistema e dell'assetto politico, forse, ricorda bene Campi, dovrebbe scandalizzarsi che la seconda e la terza carica della Stato, che si chiamano Boldrini, Grasso, Boldrini, Grasso, c'era una foto straordinaria oggi di Grasso che andava a vedere in un mercato del pesce, andare a fare campagne elettorale, secondo me al mercato del pesce, da Presidente del Senato non c'è mai stato in vita sua, ma sono contento che è andato al mercato del pesce, ma Campi che cosa dice in questo suo fondo oggi? Dice, ma ragazzi guardate che per Costituzione, leggi, regolamenti, la seconda e la terza carica dello Stato, non è che hanno soltanto 15 dipendenti, 12 assistenti, 4 auto blu, 8 uffici, 12 indennità, ma hanno anche un'altra cosa, un obbligo di imparzialità e un obbligo di rappresentanza stabilito dalla legge. Bene, come cacchio si chiede Campi, questi due possono entrare nel lagone politico durante le elezioni senza dimettersi dalla seconda e terza carica dello Stato? Ecco, forse mi scandalizzerei più di questo che delle cazzate della Parcondicio sulla Orietta Verdi o su Berlusconi intervistato dalla cosa. Perché il fatto e non solo il fatto non si interrogano su questo aspetto piuttosto singolare della seconda e la terza carica dello Stato, che non solo fanno politica nello stesso partito, ma la fanno litigando tra loro, perché uno vuole che l'alleanza con Movimento 5 Stelle e l'altro no. In più vi racconto una cosa molto semplice, come sapete la sinistra estrema non fa un accordo con Gori in Lombardia, ma lo fa con Zingaretti nel Lazio, in cui Grasso dice comando io e decido io. Va bene, ma ragazzi non vi fate prendere per i fondelli. Sapete perché la sinistra non fa un accordo in Lombardia e lo fa nel Lazio? Perché in Lombardia avevano comunque perso. Quindi che cosa succedeva? Erano la mosca che raccontava Gramsci, quella mosca che sta sull'asino, davanti sul buso dell'asino e all'asino dice sono io che ti sto portando in giro. È l'asino che portava in giro la mosca, non la mosca che portava in giro l'asino. La stessa cosa sarebbe avvenuta se si fossero candidati quelli di Grasso in Lombardia insieme alla sinistra. Avrebbero fatto la figuraccia di stare insieme al PD di Renzi, contro le quali quel partito è nato e non avrebbero neanche vinto le elezioni. Nel Lazio invece il rischio che loro possono vincere nei confronti del centro-destra e del Movimento 5 Stelle è più alto e quindi l'alleanza ha più senso, non c'è altro. Perché se no uno si chiede ma perché la sinistra si deve alleare con Gori, non si deve alleare con Gori ma si allea con Zingaretti? Boh, andatelo a capire voi. Poi l'ultima cosa che vi ricordo è molto fatta bene oggi dal Corriere della Sera, il Papa sui migranti, che dice due cose fondamentali. Avere paura e avere diffidenza nei confronti del migrante non è un peccato. Il Papa comprende il fatto che un'immigrazione, che peraltro i dati del 2017 fanno vedere che è molto scesa rispetto al 2018, perché si parla di 120.000 ingressi contro 181.000 ingressi. Bene, il Papa dice, prima cosa, che avere paura e timori nei confronti del diverso non è un peccato, è banalmente umano. Ma la seconda cosa che dice il Santo Padre è straordinaria. Dice, i migranti che arrivano in questo paese devono rispettare cultura e nostre tradizioni. Non sempre, voglio dire, quando prendiamo questo Papa, diciamo, che è molto liberale, molto gesuitico, non sempre prendiamo la seconda parte del discorso. La seconda parte del discorso è quindi, attenzione migranti, qua a casa nostra le nostre tradizioni valgono. E sapete quando lo diceva questa roba il Santo Padre? Davanti ai migranti, cioè davanti a una cerimonia fatta davanti agli stranieri. Quindi venite pure in Italia, vi accogliamo, comprendete che le nostre paure sono legittime e comprendete pure che dovete accettare le nostre tradizioni. Chiaro? Meno che Bab è più Pandori, per quanto mi riguarda, sto parlando di gusto mio, me personale. Ultima cosa è la notazione dell'inchiesta che non c'è, quella che doveva riguardare il Milan di Berlusconi, il riciclaggio, la stampa, il secolo XIX. Ecco, su questo oggi Senaldi, sul Libero, si toglie qualche sassolino e io lo comprendo perché qualche sassolino ce l'avrei anch'io. Questa inchiesta fatta, e il mio amico Ruggeri qua sbaglia, lo vedete sempre nel cameo che pubblico su Facebook, dice quelli giornalisti della stampa, mi sembrano sempre giornalisti seri. No, no, perché non è una questione in serietà. Paolo Colonnello, che è il capo dei giornalisti che ci mette a noi giornalisti in galera, cioè sostanzialmente ci può togliere dall'ordine, ci fa le sanzioni disciplinari, e a capo delle sanzioni disciplinari è uno degli articolisti di questa inchiesta, che il procuratore di Milano ha detto che non esiste. Allora loro scrivono che c'è un'inchiesta, il procuratore di Milano dice che non esiste e loro stanno lì che fanno fischiettando come se nulla fosse. E no, caro Paolo Colonnello, che a noi ci ha giudicato come delle merde, a noi ci ha giudicato come delle merde. Senaldi l'hai tolto dall'ordine dei giornalisti, sapete perché? Perché ha scritto patata bollente. Il sottoscritto Nicola Porro, quando era stato intercettato per il caso Marcegaglia, Paolo Colonnello mi ha fatto un mazzo così, perché io ero già colpevole per Paolo Colonnello. Paolo Colonnello fu quello che infierì su Sallusti quando venne arrestato dicendo che era gli arresti in una casa con i quadri di Picasso. Tutte falsità nei miei confronti, in quelli di Sallusti e soprattutto la rigidità di Paolo Colonnello e dell'ordine dei giornalisti nei confronti di noi giornalisti di destra, perché noi facciamo la macchia del fango. Invece quando la stampa dice che c'è un'inchiesta e poi il procuratore di Milano dice che non c'è l'inchiesta, quella non è fango, quella è una cosa che si possono permettere, quindi caro amico mio Ruggeri, in questo caso io questa vicenda non la mando giù, va bene? Perché non si tratta del giornalista appena arrivato, non si tratta del... si tratta esattamente del sistema per cui alcune cose i giornalisti di sinistra ben ammanicati le possono dire, altri non possono, se non sono la macchina del fango. Ciao!